Buonasera di nuovo, parliamo di centrodestra, di Frascati, ripartiamo da quanto accaduto nei giorni scorsi con l'arrivo del consigliere comunale Antonella Aurigema a Frascati, Aurigema è il risultato di diputato a Frascati nel centro-destra della coalizione e con uno scontro sotto, chiaramente in carattere politico, tra Mirko Fiasco, che era Presidente del Consiglio Comunale delle liste Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega e chiaramente altre liste civiche e Mario Cori che in qualità anche di esponente di centrodestra, diciamo così sinceramente senza dare troppo in dettaglio, ha rivendicato la bontà di questa iniziativa definendola peraltro un simposo. Al di là di quanto accaduto a Palazzo Marconi che è solo da questo contesto, lascia a voi un pari di battute, ovvero Mario Cori, ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco di Forza Italia peraltro nel 99, 2004, lascia a te quindi una battuta su questo tipo di, come dire, cosa è stato questo incontro e cosa rappresenta con lo studente di Ciposio? Un incontro è stato nient'altro che un momento per dar vita a un progetto, a un laboratorio tra amministratori che fanno riferimento all'area politica di centrodestra, consiglieri e attivisti politici dei comuni di Trascati, Grotta Terrata, Monteporsio, Colonna, con l'obiettivo esclusivamente quello di cercare un'aggregazione territoriale. Ormai è abbastanza evidente l'assenza dei partiti a livello verticistico, quindi dei quadri nazionali e regionali sul territorio, quindi c'è l'esigenza per chi fa amministrazione di avere dei collegamenti per far sì che dei progetti comuni vengano però portati avanti nelle sedi nazionali e nelle sedi regionali. Quindi è nata questa occasione. Mi interrompo chiedendo la domanda del diavolo, come mai si è pensato di coinvolgere in questa occasione i rappresentanti e gli istituzionali di queste liste? Ma ripeto, non è stata una cosa né di componente né contro né a favore di qualcuno. C'è stata, ma non con me, diciamo, perché mi è passato con Mirko al di là del discorso politico, sempre di rapporti. Diciamo che c'è ancora l'assenza di dialogo tra tutte le varie anime del centro-destra, in questo caso di Trascati, ma anche sul territorio. Quindi serve, il motivo per cui ho accettato questo invito di Mirko è proprio questo, perché sono convinto che con il dialogo si possa costruire. In una famiglia, se non c'è dialogo, anche poi dal fratello, tra moglie e marito, poi dopo alla fine non si costruisce nulla di positivo. Subito dopo ci siamo sentiti con Mirko, non è che c'è un invito da parte mia a partecipare alle prossime riunioni, dove non c'è nessuna, tengo a precisare l'aspetto che forse scogge da me, non c'è nessuna appartenenza ad un partito specifico, c'erano tesserati senza tessere di riferimento e di altri partiti. Quindi si è detto di mettere su questo laboratorio che un po' nasce, ecco perché, da un laboratorio, dall'idea del laboratorio Roma, per il sindaco Alemanno ci fu appunto una serie di consiglieri comunali, da cui il frascatano e l'amico Ludovico Todini che formarono un progetto, un progetto che andava un po' parallelo ai partiti di riferimento e Eurigemma fu il primo che fece partire questo progetto, quindi il chiamo ad Eurigemma è stato proprio a spiegare l'iniziativa che abbiamo deciso di riportare sul territorio, cioè l'assenza, la carenza di partiti. Mirko, io a te faccio un solo passo in barco, in qualche modo tu sei rimasto senza un riferimento sopra comunale, penso almeno. Confermo. Quindi insomma, qual è la posizione? Abbiamo letto chiaramente la tua posizione, veramente a quanto è accaduto nel simposio di Eurigemma. Giudichi che ci sia, come dire, che la risposta che ti ha dato Cori sia in sede social sia soddisfacente e poi il chiarimento successivo, oppure c'erano ancora delle aree di opacità politica. Allora, guarda Marco, tu come ben sai e come sapete tutti quanti voi, sono una persona estremamente corretta, schietta e leale, ritengo l'onestà intellettuale alla base di tutti. Partiamo da un presupposto che questa legge elettorale ha permesso e tuttora permette a segretari di partito di eleggere alla Camera e al Senato determinati deputati che sono distanti a me luce dai territori. Quindi pur condividendo, quanto detto da Mario Cori, nel senso quindi l'importanza di ricreare una classe dirigente sui territori, ma come sapete tutti la mia appartenenza politica proviene da Alleanza Nazionale, già dai tempi di Alleanza Nazionale si parlava dell'importanza proprio di creare una sub-federazione dei castelli romani proprio per avere radicamenti sui territori e punti di riferimento. Ora, con estrema onestà, appositamente non voglio referenti sovraccomunali perché ritengo, almeno per quanto mi riguarda e mi assumo, la responsabilità totale di quanto dichiaro che i vertici che oggi rappresentano un centro-destra sovraccomunale, sinceramente li reputo molto inconsistenti dal punto di vista politico. Vi sento dall'amico Mario quando sostiene che oggi manca questo dialogo. Oggi questi soggetti che hanno partecipato con Aurigem a questo simposio sono soggetti che continuano ad andare a Roma a bussare la porta dei vertici chiedendo appositamente di togliere i simboli a Mirco Fiasco. Però, come direbbe anche Sgarbi, nello stile capre, 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 la lista territorio protagonista rappresenta una federazione. Quindi, dal momento che i simboli sono stati depositati e dal momento che una commissione elettorale ha bagliato comunque la fattibilità ed abbiamo raccolto 200 firme sia sulla lista Frascati Futura che la lista territorio protagonista, fino all'ultimo giorno di vita amministrativa, Mirco Fiasco, un consiglio comunale, rappresenterà Frascati Futura e territorio protagonista, composta all'interno da Forza Italia, Fratelli d'Italia e noi con Salvini. Soffermiamoci brevemente su noi con Salvini e Fratelli d'Italia. A riguardo Forza Italia, tra poco ci raggiungerà la coordinatrice Anna Delle Chiaie, la quale venne eletta democraticamente con un congresso e votata quindi come coordinatrice e di fatto può tranquillamente utilizzare il simbolo. Ragazzi, ma se Fratelli d'Italia è commissariata, la colpa non è di Mirco Fiasco, è un problema verticistico di Fratelli d'Italia. Riguardo noi con Salvini, alle elezioni si è presentato il simbolo noi con Salvini che poi Salvini ha trasformato in lega. Quindi se il caos regna soprano da Roma, che vi devo dire? Io sono disposto e disponibile a riaprire un dialogo con questi amministratori appartenenti al centro-destra però ovviamente la condizione che chiedo, e qui non so l'amico Mario cosa risponderà, allora presentassero domani una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Mastro Santi e il centro-destra da dopo domani tornerà unito. Questo è quello che io chiedo.